Per noi gli sport invernali sono di particolare rilevanza, vuol dire che abbiamo sempre bisogno di istruttori che sono formati in un modo adeguato, vuol dire di alta qualità. Innanzitutto sono molto orgoglioso di aver partecipato a questo corso e adesso sicuramente farò un po' di ore, adesso decido sicuramente in che scuola mi avvicino, però come dicevo prima, molto contento e molto orgoglioso di aver fatto questo corso e mi ha aiutato tantissimo e sono molto fiero di questo e adesso vediamo cosa ci porta al futuro. Mi fa piacere che 71 diplomati ricevano adesso questo diploma, hanno terminato l'anno scorso in giugno e adesso vengono premiati e sono già in attività. Fa piacere vedere anche che tanti atleti o ex atleti abbiano dedicato il tempo per conseguire questo diploma di maestro di sci, vedi Maurberg, Goggia, Hill e sì la stagione è andata molto molto bene, devo dire, nonostante un inizio un po' titubante, è stata una stagione di nuovo eccezionale per tutti. Questo è molto importante perché danno visibilità non solo allo sport, a questo sport interessante, ma anche alla provincia stessa. Grazie a tutti.